Non siete soli è il messaggio che la questura di Reggio Calabria vuole dare a questa fascia di persone purtroppo deboli, spesso preda di questi truffatori che giocano spessissimo anche sul condizionamento emotivo della vittima. Molti sono stati gli episodi registrati altrettanto stroncati per fortuna però noi abbiamo ritenuto necessario far sì che queste vittime sentissero intorno a loro la nostra rete. Sono stati 10 a 7, sono stati comunicati oggi perché sono stati fatti in via sperimentale quindi volevamo avere una sorta di riscontro per potervi raccontare quello che stiamo facendo. Hanno avuto un'ottima risposta, sono infatti aumentate le chiamate al 113 anche su sospette truffe e stiamo battendo ogni posto perché questo è il luogo dove si snoterà il progetto, sono quelli di aggregazione degli anziani. Quindi andiamo dal circolo ricreativo alla sala da ballo e comunque alle parrocchie dove queste persone si riuniscono sentendosi sicuri. Noi lì vogliamo agire perché vogliamo essere una maggiore sicurezza e soprattutto una immagine e garanzia di sicurezza e di non solitudine. La questura di Reggio Calabria intende dare ai progetti una temporalità perenne nel senso permanente nel tempo per quello che sarà possibile poiché riteniamo che soltanto in maniera stabile quando qualcosa funziona e quindi si operi in maniera stabile ci possano essere quei risultati che noi vogliamo sia dal punto di vista della comprensione sia dal punto di vista della normalità di agire. Cioè noi dobbiamo diventare dei normali compagni affinché queste persone deboli non si sentano più soli quindi devono sapere di poter contare su di noi come se fossimo ecco gli amici che incontrano nel circolo ricreativo oppure nella parrocchia.